Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Colpo di scena al grande fratello. Negli ultimi giorni i concorrenti sono stati divisi. Una parte di loro è stata confinata nel tuburio, gli altri hanno continuato a vivere nel loft. Tra i concorrenti ce ne sono alcuni che sono finiti in altele voto che però in questa occasione non sarà eliminatorio. Nella puntata di stasera, giovedì 28 settembre, scopriremo chi sarà il più votato tra Arnold Cardaropoli, Giselda Torresan, Grecia Colmenares, Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi. Intanto negli ultimi giorni abbiamo assistito alla battuta piccante di Letizia Petris su ID Baci, pare che tra loro due possa nascere qualcosa più dell'amicizia. Questo almeno è quello che sperano alcuni telespettatori, che intanto hanno assistito ad una scena non proprio bella. In tanti hanno notato il brutto gesto dei concorrenti quando Beatrice Luzzi ha ricevuto la visita dei figli. Qualcuno infatti ha detto, dai, ci sono i bambini, facciamolo per i figli. Facciamo finta. Sono stati giorni particolarmente difficili per Beatrice Luzzi all'interno della casa del grande fratello. Oltre al gesto nei suoi confronti quando ha ricevuto la visita dei figli, l'attrice ha dovuto affrontare discussioni e litigi. Sicuramente lei ci è rimasta molto male quando al termine di un gioco gli altri inquilini l'hanno votata come la più ipocrita. Massimiliano Varrese, poi, l'ha definita sporca, falsa e manipolatrice. Insomma, parole pesanti al suo indirizzo. Adesso, però, per lei arriva una bella notizia. Nel sondaggio lanciato da Novella 2000 sul più votato tra chi è finito al televoto, infatti, Beatrice Luzzi è risultata in vetta. Il meno votato è stato Arnold Cardaropoli, che ha ottenuto a elle l'11% dei voti. Subito dopo c'è Grecia Colmenares, che ha ricevuto il 15% dei voti e Vittorio Menozzi, con il 17% dei voti. Più apprezzate, invece, sono state Giselda Torresan, con il 23% dei voti e Beatrice Luzzi. L'attrice è infatti la più amata e la più votata dal pubblico con il 33% dei voti. Ovviamente stasera staremo a vedere se i telespettatori confermeranno queste preferenze. Il televoto del Grande Fratello, infatti, sarà chiuso solo nel corso della diretta e fino a quando non arriverà lo stop di Alfonso Signorini il pubblico potrà far sentire la propria voce. In ogni caso per Beatrice Luzzi è sicuramente un bel segnale. Magari cambierà anche l'atmosfera attorno a lei nella casa? Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.